Pescara si porta a casa tre punti pesanti come il piombo, arrivati dopo una partita non bellissima per 75 minuti, bella nell'ultimo quarto d'ora. No ma abbiamo fatto fatica nel primo tempo davanti perché spesso venivamo impattati, abbiamo trovato poco, parlo del primo tempo, la possibilità degli appoggi perché gli inserimenti c'erano sempre e in questo non siamo stati bravi nel primo tempo, poi abbiamo preso un gol evitabile contro una squadra che ti allunga in campo, che gioca molto lunga, che davanti ha un giocatore come Udo che ha fisicità ma non è che avevamo concesso chissà cosa, stavamo facendo male davanti nel prendere posizione ogni volta che arrivavamo a giocare negli ultimi 20-25 metri e agevolare gli inserimenti che c'erano. Poi nel secondo tempo questo invece l'abbiamo migliorato attraverso anche i cambi e poi la partita nel secondo tempo è diventata monotematica, non è che abbiamo giocato solo 15 minuti, nel secondo tempo abbiamo sempre giocato nella loro metà campo, abbiamo creato anche situazioni sporche in cui potevamo essere più lucidi, poi abbiamo pareggiato la partita e poi ci abbiamo creduto fino alla fine perché poi dal punto di vista fisico stiamo anche bene, anche un buon apporto di Mimushai che è un giocatore che ha fatto 10 minuti splendidi, in quel momento ci serviva proprio per collegare il gioco, un appoggio ai 20 metri, lui l'ha fatto molto bene e lì sono nate situazioni pericolose perché poi arrivavamo con Zappelli, arrivavamo con Pontisso, arrivavamo con gli inserimenti e ci abbiamo creduto fino alla fine, non è che abbiamo giocato solo 15 minuti, nell'economia della partita, nell'analizzare i due tempi complessivamente abbiamo rispetto a loro avuto molto più controllo, quindi non è che abbiamo rubato nulla assolutamente. Lo dico con il sorriso senza volerla far arrabbiare, però è vero che il Pescara non l'ha tirato in porta, nel primo tempo. Non l'ha tirato in porta, siamo arrivati dentro, pure loro allora l'hanno tirato in porta, Sorrentino ha fatto una parata, siamo arrivati tante volte ma anche nel primo tempo, poi se tiriamo in porta e non prendiamo la porta oppure perdiamo l'attimo in aria di rigore in situazioni favorevoli sono tutte potenziali palle e gol, ma questo non è che soltanto quando tiri in porta che è un'occasione da gola, a volte è un'occasione da gola, anzi è un'occasione da gola è quando costruisci, sbagli l'ultimo controllo invece di essere risoluto. Le chiedo qualcosa rapida sui singoli e su chi è entrato, lei ha parlato di Memushai che è tornato dopo tanto tempo, questa sera ha ritrovato Frascatore in maniera stupenda, ho visto anche Nzita che va sempre meglio ogni volta che viene chiamato in causa, Ferrari come tocca la palla fa gol, peccato che Dursi che ha avuto un paio di inserimenti con i tempi giusti non li ha controllati in aria di rigore. Tutto quello che lei ha detto io lo condivido, soprattutto su chi è entrato, lo condivido un po' meno, lo dico anche pubblicamente così come è entrato Dursi, non mi è piaciuto tanto perché lui... Dico che si era costruito le palle. Si era costruito le palle, poi deve essere più tranquillo, più sereno, invece è entrato in un vortice di negatività che praticamente si butta addosso da solo perché ha un atteggiamento non giusto, lui deve essere più positivo. Manzita bene, ma Frascatore è un giocatore che quando lo chiamo in causa dà sempre un grande apporto, un ragazzo per bene, un ottimo professionista, ma questo in un'ottica futura è importante, insomma abbiamo dovuto cambiare Veroli che era stato ammonito, ha rischiato su una seconda palla di prendere il secondo giallo, abbiamo fatto bene, ripeto, complessivamente siamo cresciuti nell'economia della gara, nel primo tempo siamo stati sotto tono davanti nei movimenti, negli smarcamenti, nel tenere palla. Stavolta le gerarchie Cernigoi-Ferrari sono definite? No, ma non ci sono gerarchie, guardate che Ferrari è un giocatore, adesso noi giocheremo tre partite in sette giorni, Ferrari è un giocatore che tre partite in sette giorni ad altissimo livello non le può fare, ma per un fatto fisico, perché lui ha anche qualche problematica, finisce le partite, voi non siete sempre con noi, quindi io conosco i miei giocatori, nell'economia della gara di oggi, che era la prima di tre, fino all'ultimo ho avuto il dubbio se fagli fare 60 minuti io se fagliene fare 30 o 35 o 55, proprio per tenercelo nella condizione migliore per martedì. L'ultima cosa, poi le do l'auricolare per una domanda da studio, se Pompetti è pronto per martedì? Oggi ha preso l'ammunizione, va in diffida? Eh, stupidaggine, perché poi quando si fanno queste stupidaggini qui bisogna, gli entusiasmi, controllarli ed essere più equilibrati. Pronto per giocare? Non lo so, adesso vedremo nei prossimi giorni, Pompetti dopo la partita col Siena ha chiesto il cambio e poi praticamente per 3-4 giorni non si è allenato, adesso da domani che ci alleneremo, valuteremo, può essere di sì, perché poi è un giocatore che abbiamo fermato a titolo precauzionale, per evitare guai peggiori, comunque in questi 3-4 giorni che si è fermato, io spero, mi auguro che il problema l'abbia un po' risolto. Studio, una domanda per il tecnico Auteri? Sì, che salutiamo naturalmente, c'è Fabio Ferraresi che rivolge la domanda al mister. Sì, mister, io le volevo chiedere, oggi secondo me il Pescara ha fatto un po' fatica nella costruzione del gioco, rilacciandomi a quello che ha detto lei su Pompetti, che secondo me è un giocatore fondamentale per cercare di fraseggiare, di creare qualcosa, lei crede che oggi non avendolo dall'inizio qualcosina avete pagato sotto questo punto di vista, o è soltanto perché l'Olbi aveva messo in difficoltà con delle... No, ma nel primo tempo quello che dice lei è avvenuto, perché sulla nostra costruzione, però c'è un eco di ritorno... Nel primo tempo quello che dice lei è avvenuto, perché nella costruzione avendo un giocatore meno, perché Zappella per scelta, giocando in quel ruolo nelle costruzioni, lui non entra a basso, perché non è quella la sua attitudine migliore, ci doveva entrare un po' di più Pontis, doveva entrarci un po' di più Clemenza, che invece ha proprietà di controllo e di palleggio, ma non è che non siamo stati bravi in quello, c'era anche molto vento nel primo tempo, forse dalla televisione non si percepiva bene, ma soprattutto davanti, spesso ci hanno impattato, però eravamo sempre solidi, consistenti, non è che abbiamo concesso chissà che cosa, poi nell'economia della gara siamo cresciuti tanto per i motivi che ho detto prima.